È un gesto riprovevole da ragazzi che sicuramente non avevano piena coscienza di sé, delle proprie azioni e di quello che voleva veramente significare. Quello che è importante, se l'obiettivo comune è quello di comunque creare una generazione migliore, una società migliore, è sicuramente non condannare questi ragazzi ma pensare più al lato costruttivo della vicenda, responsabilizzarli sì, però anche rieducarli in modo tale che tutti quanti possiamo apprendere da questa vicenda e che possa essere l'insegnamento per tutti. Si può dire quasi archiviato l'incidente degli atti vandalici compiuti da alcuni studenti del liceo scientifico da Vinci di Pescara la notte tra venerdì e sabato scorsi ai danni del liceo classico d'annunzio per i quali sono in corso gli accertamenti su un doppio binario, quello giudiziario con la Digos che ha individuato e identificato i nove studenti di cui due minorenni protagonisti della serata di follia e quello disciplinare affidato alla dirigenza scolastica del Da Vinci nei confronti dei suoi studenti. Un errore di cui prendere atto, quasi una pietra d'inciampo nel cammino educativo dei ragazzi autori dell'assalto alla scuola di Via Venezia. Non ci si è fermati allo sconforto ma immediatamente, già la mattina dopo loro si sono trovati e insieme un tantam generale, mentre io ero prese con la questura, con la Digos, loro erano qui a pulire, a rendere più bello l'ingresso in modo che noi siamo rientrati con veramente con più bellezza, con più energia. Noi la mattina seguente all'accaduto ci siamo riuniti con degli studenti del liceo classico e non solo, infatti insieme a noi hanno partecipato anche due rappresentanti del Da Vinci proprio per ripulire le scalinate della nostra scuola. Il messaggio che noi vogliamo mandare è un messaggio di solidarietà e anche una riappacificazione che c'è stata immediatamente già dal mattino seguente. La vicenda è stata strumentalizzata, è stato definito anche un raid fascista, noi studenti ci tenevamo comunque a spiegare che dietro quest'atto sicuramente era condannare, non c'è un'organizzazione politica, quindi definire un raid fascista, ciò che è accaduto lo scorso venerdì è un po' inappropriato sicuramente e i ragazzi appunto vanno rieducati e non condannati e rimarginati. Da studenti abbiamo pensato ad organizzare qualche attività, pensiamo diciamo un'attività sportiva, comunque un qualcosa ovviamente covid permettendo, che ci permetterà di ristabilire quel rapporto di amicizia e di fratellanza anche che ci legava già da tempo perché alla fine siamo tutti ragazzi, abbiamo la stessa età, siamo tutti ragazzi di Pescara, siamo tutti amici. La presa di coscienza, la responsabilità implica immediatamente la ricostruzione perché la scuola ha questo compito di educare tutto e tutti e i nostri ragazzi ce lo stanno continuando a dimostrare.